Pazzo, tu hai vissuto a Bologna proprio come me, tu non ci sei più, io sì, dove c'è la targa in via del cardo, ho scritto qui visse dal 1975 al 1984 Andrea Pazienza. Io diventerò grande come te o morirò provandoci. Forse non dovevo usare la parola fantasma, Hemingway ha scommesso una volta di saper scrivere un racconto compiuto in sole sei parole, e lo sai qual è il suo nemico? David Bowie. Buongiorno, salve, io sarei, sì, sono io Gianluca, io sono un imbottante boeta. Oddio diventerò proprio come lui, diventerò proprio come lui. Quindi viaggiano ancora ritroso nel tempo, nel passato, e conoscono Toulouse-Lautrec, il punto di fusione di un grattacielo colpito da un aeroplano, oppure della situazione politica del Medio Oriente. Quando esce il mio primo romanzo? È Castelvecchi, meridiano, zero, FERNANDEZ! Il 12 settembre del 2001. Pazzo, ma tu le facevi queste cose. Pazzo, ma non possiamo essere noi l'età dell'oro. Pazzo, ma non possiamo essere noi. Grazie! 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 Grazie!